Ciao a tutti! Finalmente dopo la lunga pausa estiva e quindi chi mi segue sulla pagina Facebook sa ovviamente di cosa sto parlando, riprendiamo finalmente con le nostre chiacchierate, con i nostri video di approfondimento. E riprendiamo questa volta con il video di In Principio, quindi dove ci eravamo fermati l'ultima volta, con gli ultimi parallelismi, quindi con le ultime anche analogie fra Gesù e Giovanni il Battista. La cosa alquanto interessante che abbiamo visto nell'ultima puntata è anche questa doppia figura messianica che si poteva forse avvertire già all'interno dei Vangeli Canonici e che riportava forse ad un retaggio cumranico, quindi esseno, che caratterizzava la predicazione di Giovanni il Battista. Da questa puntata invece cominceremo ad analizzare in maniera un pochino più definita la figura di Gesù e come ho scritto anche più volte nel mio secondo libro Il Cristo illegittimo, la figura umana di Gesù. Perché è importante tracciare il suo aspetto umano, ovviamente fin dove le fonti ci permettono di poter analizzare quell'aspetto umano, perché non dimentichiamoci che le fonti a nostra disposizione sono profondamente viziate, dove all'interno vi sono tantissime figure di Gesù. Abbiamo fatto più volte questo discorso e magari poi ci torneremo nelle prossime puntate. Quindi cercheremo di trovare al di fuori da ogni teologia, al di fuori quindi da ogni dottrina, da ogni tradizione cristiana, di tentare di scovare quindi questa figura umana, prettamente umana. E vedremo, iniziando proprio da questa nuova puntata di In Principio, vedremo come le azioni di Gesù non siano quindi azioni rese sostanzialmente da un ordine divino, ok? Da un'ispirazione divina, molte volte i nostri personaggi all'interno del Nuovo Testamento vengono mossi perché influenzati da questo Spirito Santo. Verremo invece che Gesù in questo caso, e nel caso più specifico dopo l'arresto di Giovanni il Battista, Gesù attuerà una vera e propria strategia per potersi quindi riorganizzare. Velocemente abbiamo visto nelle puntate precedenti come Giovanni il Battista, Gesù e Gesù abbiano viaggiato parallelamente. Quasi certamente Gesù è stato, almeno all'inizio, un discepolo diretto di Giovanni il Battista. Abbiamo visto nelle sezioni esclusive del Vangelo di Giovanni che Gesù addirittura si è messo a battezzare, anche dopo in contrasto con i discepoli del Battista. Quindi abbiamo visto che questa duplice funzione andava ad adattarsi a questa doppia possibile, ricordiamo, figura messianica a retaggio della scuola cumuranica. Quindi è la scuola essena che appunto attendeva un doppio messia. Uno sacerdotale, forse rispecchiato in Giovanni il Battista, o comunque a cui si rispecchiava, forse, Giovanni il Battista, essendo di tradizione sacerdotale, e poi un messia di tipo invece politico, il Cristo, anche in questo caso, rispecchiato invece da Gesù. Noi sappiamo da tutte le fonti a nostra disposizione che Giovanni il Battista venne fatto imprigionare da re Erode Antipero del Tetrarca. E dai Vangeli veniamo a sapere che questo arresto è avvenuto, e questo ce lo dice Matteo, sebbene comunque anche gli altri due sinottici ci parlano di questo arresto e anche di questo martirio, possiamo dire così, di questa uccisione di Giovanni il Battista da parte di Erode, e dicevamo Matteo spiega i motivi, spiega i motivi perché Erode Antipas si è poi unita, pensa come compagna, Erodiade è la moglie del defunto fratello Filippo, e veniamo a sapere da Matteo che Salomè, quindi la figlia di Erodiade, ha chiesto, ok, dopo una danza sensuale, scusate, che ha incantato il tetrarca, ha chiesto la testa di Giovanni il Battista, perché, dice quindi, dicono quindi i Vangeli, perché Giovanni il Battista stava dando sostanzialmente fastidio a re Erode attraverso questo discorso, potremmo dire così, molto moralista, ok, molto etico, tu non puoi sposare, non puoi prendere in moglie la compagna di tuo fratello, sostanzialmente il Vangelo, o meglio i Vangeli, riducono a questo, quindi un discorso puramente morale ed etico, tutta questa vicenda. Se noi però andiamo a quelle che sono fonti indipendenti, quindi se noi invece ci affacciamo sostanzialmente a fonti diverse dai Vangeli, in questo caso alle Antichità Giudaiche di Giuseppe Flavio, questa è l'edizione della UDET curata da Luigi Moraldi, autore che più volte ho citato nei miei video, nei miei lavori, ebbene nel libro diciottesimo delle Antichità Giudaiche veniamo a sapere i motivi dell'arresto e della morte di Giovanni il Battista. Si parla nel capitolo 18, essenzialmente nel libro 18, capitolo 5, si parla della guerra fra Aretha e il re Erode, a seguito anche e soprattutto della questione matrimoniale, la figlia di Aretha aveva sposato Erode, Erode però aveva deciso appunto di stare con Erodire e questo aveva portato quindi a questo scontro con il sovrano, con il sovrano Aretha. E questo scontro portò poi tra il 36 e il 37, portò alla sconfitta di Erode per mano di Aretha. Leggiamo però che appunto questa sconfitta, così viene giustificata da Giuseppe Flavio, o comunque Giuseppe Flavio trova una possibile giustificazione a questa sconfitta da parte di Erode. Ma ad alcuni giudei parve che la rovina dell'esercito di Erode fosse una vendetta divina e di certo una vendetta giusta per la maniera con cui si era comportato verso Giovanni soprannominato Battista. Erode infatti aveva ucciso questo uomo buono che sortava i giudei a una vita corretta, alla pratica della giustizia reciproca, alla pietà verso Dio e così facendo si disponessero al battesimo. Quindi qua si sta parlando, come abbiamo visto anche nelle puntate precedenti, non dimentichiamoci l'ultima puntata anche riguardante il concetto di giusto e il concetto di peccatore. Qua si parla di un battesimo, ok, che era gradito a Dio, quindi per gli uomini giusti, per gli uomini zadichim, non dimentichiamoci questo termine. E chi si è dimenticato vada a vedere i video precedenti, gli ultimi che abbiamo fatto di principio. Quindi abbiamo un piccolo parallelismo per quanto riguarda Giovanni il Battista e i Vangeli, ok? Quando altri, poi spiega Giuseppe e Flavio, quando altri si affollavano intorno a lui, quindi intorno a Giovanni il Battista, perché con i suoi sermoni erano giunti al più alto grado, Erode si allarmò. Quindi, vediamo, anche qui una piccola coincidenza con i Vangeli, Giovanni il Battista da grande oratore, ricordate, no, la metanoia di Giovanni il Battista, quindi il cambio di mentalità. Abbiamo visto anche in quel caso cosa potesse significare il cambio di mentalità, ok? Veri e propri minacce da parte di Giovanni il Battista verso le alte sfere, verso quelli che potrebbero essere consigliati forse i collaborazionisti dell'impero romano, ok? E quindi sembra, dal discorso che sta facendo Giuseppe e Flavio, sembra che Giovanni il Battista stesse, in qualche modo, riuscendo ad aderire all'interno anche delle alte sfere dell'establishment. Quindi Erode si allarmò di fronte a questa evidenza. Un'eloquenza, quella di Giovanni il Battista, che sugli uomini aveva effetti così grandi che poteva portare a qualche forma di sedizione, poiché pareva che volessero essere guidati da Giovanni in qualunque cosa facessero. Erode, perciò, decise che sarebbe stato meglio colpire in anticipo e liberarsi di lui prima che la sua attività portasse a una sollevazione, piuttosto che aspettare uno sconvolgimento e trovarsi in una situazione così difficile da pentirsene. A motivo dei sospetti di Erode, Giovanni fu portato in cadena nel Maccheronte, la fortezza che abbiamo menzionato precedentemente, e quindi fu messo a morte. Facciamo delle considerazioni. Non viene menzionato Erodiade, non viene menzionato il ballo sensuale di Salome, e sostanzialmente non viene fatta menzione del discorso di Giovanni il Battista morale ed etico. Giuseppe Flavio dà delle motivazioni diverse da quelle dei Vangeli. Giuseppe Flavio ci dice che Giovanni aveva una forte alcuenza, Giovanni portava quindi al Battesimo, abbiamo visto nell'Angeli, il Battesimo cos'era quella? Quella conversione per la metanoia, quindi entrare nella sua cerchia, e ancora una volta vi ricordo, e vi invito anche a rivedere il video sui peccatori e sui giusti, cosa significava esattamente a quel tempo, ok? E sostanzialmente questa eloquenza stava aderendo anche tra le alte sfere, Erode, sentendo magari voci, ok? Magari di gente che assisteva a quei discorsi, vedeva che l'eloquenza di Giovanni il Battista era tale che stava convincendo molti, e stava convincendo molti che poteva questa sua eloquenza portare a qualche forma di sedizione. Addirittura Giuseppe Flavio dice sembrava, pareva che volessero essere guidati da Giovanni in qualunque cosa facessero, un vero e proprio leader. Potremmo spingerci, anche se il testo non lo dice, a dire un vero e proprio leader messianico. Cioè, Giovanni come una vera e propria guida, guida per una sollevazione, questo viene fatto menzione due volte all'interno del testo, sollevazione e sedizione. Quindi i motivi che spingono Erode a arrestare Giovanni il Battista non sono morali ed etici. Quindi non un Giovanni il Battista che accusa Erode di azioni peccaminose, come potremmo intendere noi, moralmente e eticamente ingiuste. No, sono azioni, in questo caso, totalmente politiche, ed è un'azione preventiva del tutto politica. Erode non vuole che vi si creino disordini. Erode non vuole, in questo caso, che si possa sollevare a livello popolare, magari rovesciare quello che è il suo regno, perché non dimentichiamoci che ci troviamo comunque, in questo caso, in Galilea. Galilea, che vedremo dopo con Gesù, è una regione molto importante, estremamente importante. Quindi, intanto vediamo che l'arresto di Giovanni è un arresto, ancora una volta, preventivo a livello politico. Perché forse si stava organizzando una vera e propria sollevazione popolare. E abbiamo visto nelle vecchie puntate, nelle ultime due, la carica politica dei discorsi di Giovanni il Battista. E cosa fa Gesù in questo caso? Gesù, abbiamo detto, che sta battezzando insieme al Battista, in un'altra regione, ma comunque insieme a lui. Sta lavorando parallelamente, gomito a gomito con il Battista. Nel momento in cui il Battista viene arrestato, Gesù cosa fa? In questo caso tutti i Vangeli sono concordi, nel descrivere un'azione specifica che fa Gesù. Qua siamo in Matteo 4, versetto 12. Quando poi seppe Gesù che Giovanni era stato imprigionato, Gesù si ritirò in Galilea e lasciata Nazareth, andò ad abitare a Cafarnao. Quindi abbiamo un Gesù che viene a sapere l'arresto di Giovanni il Battista, va in Galilea, quella che dovrebbe essere la sua patria d'origine, va a Nazareth, ma non viene menzionato quello che fa a Nazareth. Va a Nazareth, lascia Nazareth per un motivo che adesso noi non sappiamo, e raggiunge Cafarnao, addirittura dice il testo che va ad abitare a Cafarnao. Quindi Gesù che lascia il territorio della Giudea per andare in Galilea, ok? Dopo l'arresto di Giovanni il Battista. Nel Vangelo di Marco, invece, capitolo 1, versetto 14. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù venne in Galilea predicando il Vangelo di Dio. Diceva, il tempo è compiuto, il Regno di Dio è giunto, convertitevi e credete al Vangelo. Quindi, anche in questo caso, si fa menzione di una, potremmo dire, fuga di Gesù verso la Galilea dopo l'arresto di Giovanni il Battista. Vangelo di Giovanni. Vangelo di Giovanni, capitolo 3, perché poi il Vangelo di Luca vedremo altro, ok? Per adesso arriviamo a Giovanni. Nel Vangelo di Luca, capitolo 4, scusate, versetto 1 e seguenti. Quando Gesù seppe che i farisei avevano sentito che egli faceva più discepoli e battezzava più di Giovanni, e qua poi c'è una correzione da parte del redattore evangelico, per quanto non fosse Gesù stesso che battezzava ma i suoi discepoli, ma abbiamo visto nella comunità precedente come anche lui battezzava ed è proprio il Vangelo di Giovanni che ce lo dice. Quindi, questo è molto probabilmente, come dicono anche i critici del Nuovo Testamento, può essere una correzione successiva. Ma comunque, quando i farisei sapevano che Gesù battezzava insieme a Giovanni, ecco, Gesù lasciò la Giudea e ritornò verso la Galilea. Quindi, qua veniamo a sapere che, sebbene non venga proprio menzionato l'arresto di Giovanni, vediamo però che i farisei, e quindi l'establishment ebraico sta cercando anche Gesù perché Gesù stava battezzando insieme a Giovanni. Quindi potremmo dire che queste fughe di Gesù che sono descritte in Matteo, in Marco, tra poco poi verremo anche in Luca e in Giovanni, Giovanni ci spiega esattamente perché Gesù sta fuggendo. Non soltanto per l'arresto di Giovanni, ma perché è ricercato anche lui. Ok? Quindi potremmo dire che la sua è una vera e propria fuga strategica e un diciamo così una riorganizzazione magari anche del suo ministero dei suoi uomini. Gesù va in Galilea. Gesù come vedremo passa da Nazareth sebbene Matteo non ci spiega esattamente cosa fa a Nazareth perché poi la lascia e non sappiamo i motivi per cui la lascia, ma comunque raggiunge Nazareth o per meglio dire ancora la sua città natale è lì si organizza, si riorganizza e vedremo esattamente quello che succede proprio nella sua città d'origine. Allora in Luca capitolo 4 dal versetto 14 leggiamo e come sempre vi ricordo che prendo in esame l'interlineare la San Paolo leggiamo quanto segue Gesù ritornò nella Galilea ok? quindi qua si parla del periodo dopo la tentazione del deserto anche qui per ricollegarci a questo vedete gli ultimi video che abbiamo fatto di principio con la potenza dell'ospito quindi qua si parla che Gesù andò in Galilea con la potenza dell'ospito come vedete giustificazioni tipo teologico ok? la sua fama addirittura si diffuse in tutta la regione insegnava nelle loro sinnagoge e tutti lo lodavano ok? quindi sembra che Gesù faccia una sorta di proselitismo all'interno delle sinagoga della Galilea poi si recò a Nazareth adesso diamo per buono il tato di Nazareth ok? si recò a Nazareth dove era stato allevato era sabato e come al solito entrò nella sinagoga e si alzò a leggere fermiamoci qui abbiamo una prima primissima informazione su questo luogo chiamato Nazareth che è la città d'origine di Gesù in questo luogo è il testo di Luca c'era esplicita dove era stato allevato sappiamo che c'è una sinagoga ok? quindi in questa città d'origine Gesù che è chiamata dai testi Nazareth abbiamo una sinagoga andiamo un pochino più avanti il resto del testo lo vedremo dopo ma andando un pochino più avanti leggiamo che Gesù dopo che fa determinate cose in questa sinagoga la gente che l'ho ascoltato venne presa dall'ira e alzatisi quindi alzata questa folla la cacciò fuori dalla città conducendolo fino in cima al monte sul quale era situata la loro città per farlo precipitare giù poi sappiamo che Gesù riuscì a fuggire quindi di Nazareth o comunque di questo luogo sappiamo che aveva una sinagoga e che era situata sulla cima di un monte addirittura la sinagoga era talmente vicino a un precipizio che lì condusse Gesù per farla addirittura precipitare noi sappiamo conosciamo quella che è la Nazareth attuale la Nazareth attuale diciamo così si espande su un vasto territorio pianeggiante e collinare dicevo la Nazareth del primo secolo è stata più volte è stata più volte analizzata soprattutto da un archeologo molto famoso come Bellarbino Bellarbino Bagatti Bellarbino Bagatti come scrivo nel mio libro Il Cristo Illegittimo il riferimento proprio alla Nazareth del primo secolo scrive quanto segue per quanto riguarda il primo secolo dopo Cristo vi sono deboli evidenze riguardanti a proprio Nazareth che possono riferirsi al massimo a un piccolo centro rurale due casette ammesso che vi fossero una cascina priva di strutture capaci di lasciare importanti resti archeologici e quindi è impossibile dice questo archeologo è impossibile parlare di una città di Gesù quindi come scrive proprio questo archeologo Bellarbino Bagatti analizzando quelli che erano i resti del primo secolo di questo possibile centro dove è situata Nazareth è un centro con pochissime case addirittura non si fa neanche menzione di una sinagoga che invece era importante così come è descritto anche nel Vangelo di Luca perché lì Gesù andò a a parlare quindi anche a leggere un rotolo del profeta di Isaia che tra poco andremo a vedere ma oltretutto quello che dice lo stesso Bellarmino Bagatti in questa sua analisi la Nazareth o questi queste rimasugli di Nazareth del primo secolo non sono neanche presenti nelle più vicine zone collinari ma soltanto nella zona pienamente pianeggiante quindi quando si parla di questo monte addirittura neanche una collina ma di questo monte su cui era situata la città e da cui Gesù doveva essere fatto cadere quindi fatto precipitare un precipizio vicino alla sinagoga non è assolutamente presente al Nazareth non è presente la sinagoga non è presente neanche il monte su cui è situata la città la domanda quindi sorge spontanea qual è questo posto? è nel mio libro il Cristo illegittimo citando lo studioso Davide Donnini che è stato il primo in Italia ad avanzare quest'ipotesi perché comunque è ovviamente un'ipotesi si può forse parlare di Gamala Gamala è una città presente sulle alture del Golan quindi al confine poi con la Galilea ma che affaccia comunque sul famoso mare di Galilea dove è Cafarno e comunque gli altri centri che Gesù visita regolarmente e quotidianamente quindi molto vicine a differenze invece della Nazareth che conosciamo dove si impiegherebbe invece molto più tempo per raggiungerla quindi non sono viaggi quotidiani che si possono fare con tale facilità soprattutto vista anche il terribile clima che è in molto aido molto secco della regione e dicevo Gamala può essere una città papabile situata sull'alto ciglio di un monte presente una sinagoga una sinagoga che è vicina a un precipizio ma Gamala è importante soprattutto perché era un centro o forse uno dei più importanti centri zeloti Gamala era la patria di origine di Ezechia di Gamala padre di quel famoso Giude il Carileo e degli altri fratelli degli altri parenti anche loro zeloti che ha dato il via secondo quanto dice Giuseppe Flavio ha dato il via alla quarta filosofia quindi a quella frangia zelota di dissidenza antiromana io non voglio dire che è certo che Gesù derivasse da quel posto ok? derivasse da quella città ma se Luca ci sta descrivendo un posto del genere che non coincide assolutamente con Nazareth ma in questo caso coincide invece forse con una città che è molto pare ricordare molto vicina invece a Gamala e guarda caso Gamala è un centro zelota molto importante abbiamo visto e lo vedremo anche le pointe successive come Gesù potesse essere vicino alla dissidenza antiromana citeremo ancora una volta ma l'ho fatto anche più volte Samuel Brennan John Danelou ma anche molti altri è la cosa alquanto interessante l'associazione alquanto interessante anche perché sappiamo benissimo come il termine Nazoreo Nazorai o spresente all'interno dei Vangeli non è detto che significa effettivamente di Nazareth addirittura nel Vangeli Gnostici Nazara viene detto quello della verità quindi si trovano moltissime giustificazioni e spiegazioni sul termine Nazareno Nazoreo ok? quindi l'associazione Nazoreo Nazareno a Nazareth non è assolutamente detta ma anzi potrebbe essere una ricostruzione successiva ok? forse per censurare un qualcosa di molto più scomodo so benissimo che a molti forse il criterio dell'imbarazzo ok? può dar fastidio gli può star stretto ma è assodato e penso sia evidente che c'è un qualcosa secondo me che è stato cambiato a livello redazionale perché non c'è motivo di descrivere Nazareth come un posto sull'altra cima di un monto dove presenta una sinagoga quando Nazareth forse nemmeno nel primo secolo esisteva o se esisteva era soltanto un insieme di pochissime casupole all'interno di un vasto territorio pianeggiante ok? ma cosa ha fatto quindi Gesù non chiamala più Nazareth ma nella sua patria d'origine la sua patria d'origine Gesù cerca forse un un confronto cerca un modo per potersi riorganizzare e nel Vangelo in questo caso nei Vangeli Sinotti ci leggiamo quanto segue uscito di lì Gesù venne la sua patria questo è il racconto che ci fa il Vangelo di Marco quando Gesù raggiunge la sua città natale ok? accompagnato dai suoi discepoli venuto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltavano stupiti dicendo ma dove arrivano queste cose da lui? che sapienza è quella che gli è stata data? e che miracoli avvengono per le sue mani? non è egli il falegname il figlio di Maria e il fratello di Giacomo di Giuseppe di Giuda e di Simone e le sue sorelle non sono qui tra noi? e si scandalizzavano di lui non potè Gesù fargli alcun miracolo ma soltanto curire pochi infermi imponendo loro le mani ed era meravigliato della loro incredulità qui in questo caso abbiamo un Gesù che raggiunge la sua padre natale e viene subito identificato come figlio di Maria e abbiamo visto questa identificazione cosa forse può significare essere figlio della madre essere quindi un figlio illegittimo non c'è Gesù non è riconosciuto come figlio di Giuseppe ma come figlio di Maria e abbiamo visto ripeto ancora una volta che identificare una persona al tempo come figlio della madre appunto significava identificarla come figlio illegittimo e la madre come un'adultera quindi non viene certamente visto di buon occhio nella sua paternatia e abbiamo visto come questa sua forse origine scandalosa ha trovato giustificazione nel battesimo di Giovanni il Battista leggeva nel Maggiore di Matteo capitolo 13 versetti 54-58 venuto nella sua patria insegnavano alla loro sinagoga in maniera che essi rimanevano stupiti e dicevano dove viene da costui questa sapienza e questi prodigi non è forse il figlio del falegname quindi mentre in Marco non è egli il falegname qua si parla non è forse egli il figlio del falegname sua madre non si chiama Maria e i figli di Giacomo Giuseppe e Simone e Giuda non sono qui insieme alle sue sorelle da dove vengono dunque tutte queste cose anche in questo caso non potè Gesù compiere la molti prodigi a causa della loro incredulità qui come vedete Matteo addolcisce il passo di Marco Marco definisce Gesù falegname o forse carpentiere ma allo stesso tempo quel figlio di Maria Matteo lo censura lo addolcisce lo fa diventare il figlio del falegname e poi ma sua madre non si chiama anche Maria ma qui Gesù è associato in quanta figliolanza in quanta generazione al padre non più alla madre questo è quanto interessante quindi come vediamo anche qui c'è incredulità poi leggiamo invece nel Vangelo di Luca tutti si chiedevano ma costruito non è figlio di Giuseppe ecco qui abbiamo il nome del padre finalmente Giuseppe mentre in Marco il nome del padre è totalmente ignorato sembra che Gesù non abbia neanche un padre in Matteo sappiamo poi nella Natività ma non è menzionato in questo passo in Luca invece abbiamo ma non è figlio di Giuseppe tutto ciò che abbiamo dito che è avvenuto a Cafarno fallo anche qui nella tua patria dicono i suoi ed egli aggiunse in verità vi dico nessun profeta è ben accetto nella sua patria in verità vi dico c'erano molte vedone in Israele al tempo del profeta Elia quando per tre anni e sei mesi non cadde alcuna goccia di pioggia ed una grande carestia dilagò per tutto il paese a nessuna di loro però fu mandato il profeta Elia ma solo ad una vedova di Sarepta nella regione di Sidone quindi qua sta dicendo addirittura per il suo popolo Elia non arrivò ma arrivò per qualcun altro qui c'è una polemica forte magari è quanto ebraica da parte dell'autore perché appunto poi leggiamo che a seguito di ciò a seguito di ciò i cittadini Nazareth o comunque con la città d'origine di Gesù prendono Gesù e tentano di gettarlo dal precipizio il punto però è un altro in questo caso e c'è che Gesù quando legge nella sinagoga stiamo andando verso la conclusione ovviamente cita il profeta Isaia in questo caso il capitolo 61 del profeta Isaia e quindi legge quanto segue lo spirito del Signore è sopra di me per questo mi ha consacrato e mi ha inviato a portare ai poveri il lieto annuncio ad annunciare ai prigionieri la liberazione e il dono della vista ai ciechi per liberare coloro che sono oppressi e inaugurare l'anno di grazia del Signore Gesù si ferma qui ok? il punto è che continua però il profeta Isaia cioè Gesù o magari forse chi sta facendo dire fare certe cose a Gesù lo fa fermare qui ma il capitolo 61 dicevo prosegue perché Gesù dice a proclamare un anno di grazia da parte del Signore e si ferma ma Isaia continua un giorno di vendetta da parte del nostro Dio per consolare tutti gli afflitti per dar loro un diadema invece di cenere olio di letizia invece di un abito di lutto lode invece di animo mesto stranieri verranno a pascolare i vostri greggi figli di stranieri saranno vostri aratori e vostri vignaiuoli vi nutrirete della ricchezza delle nazioni e la loro gloria passerà a voi quindi un anno di vendetta non solo di grazia quindi un anno di gloria di gloria per il popolo ebraico in questo caso e di vendetta nei confronti dello straniero lo straniero che dice lo stesso Isaia straniero che pascolerà le vostre le vostre greggi i figli e lo straniero areranno i vostri campi vi nutrirete delle loro ricchezze e la loro gloria sarà la vostra quindi quest'anno di grazia del Signore è anche un anno di vendetta ripeto ancora una volta di grazia per gli ebrei ma di vendetta per i nemici Gesù in questo caso taglia la scrittura e quest'ira da parte dei suoi è ben giustificata se quest'ira deriva dagli abitanti di Gamala quindi da zeloti convinti perché se zeloti convinti che sono in quel sabato nella loro sinagoga ascoltano il capitolo 61 di Isaia ok quindi in quel momento Gesù si sta consacrando come un possibile leader ok la grazia del Signore è scesa su di me io sono colui che inizierà l'anno di grazia del Signore ma quelli che lo stanno ascoltando forse e ovviamente sto facendo io una mia personalissima ricostruzione che descrivo molto bene il mio libro il Cristo legittimo quelli che lo stanno ascoltando si aspettano anche l'anno di vendetta l'anno di rivalsa non soltanto l'anno di grazia cito in questo caso un altro autore vediamo se trovo la citazione ovviamente cito un altro autore il quale il quale dice l'autore Bonifasi Gesù il Messia del messianismo giudaico alla cristologia apostolica il quale dice leggendo al suo modo quel passo di Isaia a Gesù gli sembrò sufficiente dichiarare forse in modo indiretto e implicito nella sua persona il compimento della profezia di Isaia di se stesso come portavoce di Dio scegliendo quel brano che più gli si confaceva e liberandolo dall'idea della vendetta politica e isolandolo come più fedele alla parola di Dio questo è vero cioè nel senso sembra che Gesù stia censurando brutamente il rotolo di Isaia dove si parla della vendetta ok e quindi ripeto ancora una volta sembra giustificata quindi l'ira di chi lo sta ascoltando se quelli che lo stanno ascoltando effettivamente vogliono questa rivalsa ma la domanda sorge spontanea è stato volutamente Gesù a fare questo oppure è il redattore evangelico che ha spinto Gesù a farlo fermare e a far apparire quindi Gesù come non accettato dai suoi questo questo non lo sapremo mai purtroppo quel che è certo comunque ed era importante in questo caso sottolinearlo è che Gesù compie una vera e propria ritirata strategica in Galilea Galilea che era la zona dove il controllo romano era meno serrato visto che comunque vi era un sovrano ebraico potremmo dire così dumeo più che ebraico così come descrive per esempio Martin Engel nel suo libro Gli Zeloti la Galilea era quella zona dove si faceva molto più facilmente proselitismo Zelota proselitismo combattente Gesù torna nella sua patria per motivi che noi non sappiamo nella sua patria non viene accettato motivi che possono essere razionali o perché Gesù forse stava in qualche modo riorganizzando ok la sua funzione messianica la sua predicazione vedendo anche che fine aveva fatto a Giovanni il Battista con il suo linguaggio fin troppo duro e infatti nella prossima puntata inizieremo ad analizzare quella che è la predicazione di Gesù da una parte il messianismo serrato radicale ma dall'altra anche la strategia perché la strategia politica è importante in questo personaggio facendo sempre finta che quello che leggiamo sia reale non dimentichiamocelo quindi il dubbio c'è sempre ok dicevo ancora una volta da una parte il messianismo radicale dall'altra la strategia politica che forse lo porterà all'abbandono dei suoi lentamente fino al tradimento che noi conosciamo quindi io vi ringrazio per essere stati qui vi ringrazio per tutti i messaggi che mi avete mandato in queste settimane di estate in attesa anche del nuovo video nuovo video ecco che come potete vedere voi stessi ha dato il via quindi alla nuova stagione di chiacchierate nuovi video di approfondimento io vi lascio ovviamente ai miei soliti libri il cristi legittimo il cristianesimo dimensione in san paolo de semidee scritto con moro piglino e per ultimo prima del cristianesimo quindi io vi lascio al prossimo video vi ringrazio ancora per avermi ascoltato per questa mezzoloretta abbondante noi ci vediamo al prossimo video di approfondimento ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti